Noi andiamo ad accompagnare le nostre aziende in un paese che può fare veramente la differenza perché è il portale per entrare dentro un mercato infinito che è il mercato cinese. Sono 50 le aziende ora fea retine, 10 delle quali grazie al contributo determinante della Camera di Commercio che voleranno nei prossimi giorni alla volta di Hong Kong per la September Jewelry & Jam Fair. La fiera appunto di Hong Kong è nata nel 1983 e che coinvolge oggi 3.550 espositori provenienti da 54 paesi, quasi 60.000 i visitatori. Quello è un mercato infinito il mercato cinese perché ricordiamoci che Hong Kong non è altro che è la porta d'ingresso in questo mercato cinese dove nel mercato cinese ci sono per molti prodotti dei dazi. Passando da Hong Kong questi dazi improvvisamente spariscono, non sappiamo noi la strada reale che fanno i prodotti. Dunque i prodotti sono immensi dal food, dall'alimentare, noi esprimiamo le eccellenze in questi territori al settore orafo, al settore meccanico, al settore di precisione. Noi vendiamo macchine che fanno prodotti di precisione ai cinesi stessi, dunque è immenso quel mercato, è veramente grande. Solo nell'anno scorso i nostri ora fiarettini hanno venduto oltre 100 milioni di pezzi in oreficeria metallo prezioso verso Hong Kong che è diventato il secondo mercato di riferimento per il distretto ora fuarettino e vicentino. Quindi veramente una porta, un gate interessantissimo per entrare nei mercati dell'estremo oriente. Vitale trovare per il distretto ora fuarettino nuovi mercati di riferimento, anche per perché i dati che riguardano i primi sei mesi del 2016 hanno ancora il segno meno. Oggi più che mai, proprio ieri infatti sono usciti i dati dell'export di questa provincia che è una provincia vocata all'export e che non sono assolutamente confortanti perché abbiamo una diminuzione per quanto concerne il settore orafo del meno 4,9%. Questo ovviamente è dovuto a tutta una serie di motivazioni geopolitiche che in questo momento avvengono a livello mondiale, l'imbargo con la Russia, le difficoltà all'interno del mercato russo ma anche ovviamente le difficoltà nei mercati arabi. Per cui tutti quanti noi speriamo che a Hong Kong ci sia la possibilità da parte di questo settore particolarmente importante e fondamentale per la nostra provincia di avere il suo rilancio.